Per il terzo anno consecutivo l'ospedale Casa Sollevo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, fondato da San Pio da Pietralcina, si conferma come il miglior ospedale non solo della Puglia ma del Sud Italia. Lo ha stabilito l'annuale classifica World's Best Hospital 2022, stilata dalla rivista americana Newsweek, realizzato in collaborazione con Statista Inc., società internazionale leader nella raccolta e nell'elaborazione dati per conto di aziende che hanno individuato i migliori ospedali di 27 paesi, principalmente europei, americani, asiatici e oceanici. La metodologia utilizzata per stilare le classifiche è basata su tre tipologie di dati, il parere di 80.000 esperti di sanità interpellati tramite un sondaggio online, l'analisi dei dati disponibili ricavati dai sondaggi sulle esperienze dei pazienti, l'analisi dei cosiddetti indicatori chiave di prestazione medica, come ad esempio i dati sulla qualità dei trattamenti erogati, sulle misure igieniche e sul rapporto numero di malati per medico e infermiere. Per Nancy Cooper, caporedattrice di Newsweek, i principali ospedali che hanno posizione di leadership sono riusciti a reggere l'urto della pandemia perché hanno imparato a lavorare più velocemente, comunicando meglio e rompendo i compartimenti organizzativi che li strutturavano. L'obiettivo dello studio, afferma la giornalista, è fornire il miglior confronto possibile tra i paesi, basandosi sui dati della reputazione e delle prestazioni ospedaliere. Ci auguriamo che ciò sia utile, conclude Nancy Cooper, non solo ai pazienti e alle famiglie che cercano la migliore assistenza per se stessi e per i propri cari, ma anche per gli ospedali che potranno confrontarsi tra loro durante un periodo di cambiamenti senza precedenti.